Qui è l'unità 4, temo sia successo qualcosa Questa è l'esperienza più sderbante che abbia mai avuto E' troppo tardi per tirarsi indietro Tirarmi indietro? Io? Neanche per sogno Inseriamo le chiavi Chiave inserita nella fessura Qui è l'unità 4 Base, qui è l'unità 4 C'è qualcuno, è entrato qualcuno Tutte le unità al ristorante Forza, andiamo Concentrati Eva, abbiamo ancora tempo Spingiamo le chiavi al mio 3 Uno, due, tre Forza, prendiamo l'ascensore Su, muoversi, muoversi Non funziona Dobbiamo usare le scale Forza, andiamo Non so proprio come ringraziarti Invece di pensare a come ringraziarmi Ti conviene indossare subito la maschera Eva Perché mi hai avvertito delle gabbie? Ti ho detto tutto ciò che dovevi sapere Questo non sarebbe dovuto succedere Forza Dove sono? Io non vedo nessuno Non possono essere andati lontano No Chiamate Dave Scendete da lì Altrimenti saremo costretti a venirvi a prendere Non potete fuggire Siete circondati Tieni Li ho nascosti qui ieri Indossalo Pronto? Non proprio Ma non ho altre scelte Guardate Guardate